Sarebbero arrivati a fare prestiti a strozzo fino ad un interesse del 360% le tre persone arrestate dai carabinieri di Venosa guidati dal capitano Vincenzo Variale con l'accusa di estorsione, usura e violenza. Si tratta di un pregiudicato 52enne, di un 44enne entrambi del posto e di un 28enne melfitano. Per la moglie del 52enne è stato disposto il divieto di avvicinarsi alle vittime. Le indagini sono partite lo scorso aprile, ma il giro di usura era in piedi dall'inizio del 2012. Sono stati quattro imprenditori a denunciare gli usurai, aprendo così la strada agli investigatori che ipotizzano in quel territorio decine di casi. È stato accertato che i gruppi sono due distinti tra loro, con base a Venosa e a Melfi, ma ci sono casi di commercianti che si sono rivolti a entrambi per ottenere danaro. A Venosa in particolare, gli incontri venivano fissati in una concessionaria di automobili sequestrate dai carabinieri, dove avveniva anche la consegna del danaro e delle foto. E sì, perché secondo gli investigatori, i tre, quando consegnavano i soldi alle vittime, chiedevano in garanzia le foto dei parenti più prossimi. Ad ogni modo non sono emersi fino ad ora casi di violenza ai familiari delle vittime, ma una denuncia per percorsi a uno degli imprenditori vessati. Sulla vicenda è intervenuto interesse uomo, l'organismo guidato dal vicepresidente nazionale di Libera, Don Marcello Cozzi, per annunciare che chiederà di costituirsi parte civile contro le persone arrestate.